E' bellissimo questo qui come gioco, perché appunto siamo soldatini, proprio soldatini giocattolo in una mappa che è una mega stanza piena di giocattoli, quindi naturalmente è tutto in miniatura ed è bellissimo! E' la stanza dei sogni di ogni bambino. Sì, 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 sì. Oi, apri. Ti serve un terzo, no? Facciamogli e Tano. No, per ora, apri. Anche perché tra quattro ore poi staccano. Allora, raga, questa qui è la mappa di gioco. Cioè, guardate che figata! Cioè, per chi è un pochettino più grandicello, andrete a rivivere un pochettino di ricordi, ecco. Faccio cacare. Faccio cacare. Faccio cacare. Mi ha shottato, ok. Noi ragazzi, il giochino è bellissimo. Su, buca. Allora, c'è gente qua che fa male comunque. Con l'asciugamano? Aia. Ora, questo qui è il tipo di riscaldamento. Quindi noi adesso aspettiamo che parte poi la partita. Aspetta. Aspetta, voglio provare a fare una cosa. Noi si vede così. Ok. Ok ragazzi, sta per startare. Tano, sei caldo? Eh, sì, ma guarda, c'è gente qua che sciottava in testa. Dici? Sì, sì. Ragazzi, siamo su un dirigibile. Sì, punto. Guardate che figata. Eh, Tano, io ti direbbi... Posso andare qui. Vado dove vuoi. In questo punto qua. Quindi davanti al... Cos'è quello del castello? Non mi ricordo. Non lo so. No, è tipo quella parte fatta con i blocchi di bambù, non lo so. Poco prima della chitarra gigante. Sì, sì, lo vedo, ma quello sotto non mi ricordo cos'è. Vabbè, è quello lì, è quello là dopo il coso. Quella lì, Tano, è una mappa di CS. È AWP Lego. È AWP Lego, bro. È AWP Lego, esatto. Ma che... Ma che cavolo. Vabbè, andiamo. Sì, ma proprio quella torre è uguale, identica, bro. Sì, 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 sì. Ma infatti è fatta di Lego. Tano, c'è già un team, eh. Infatti hanno ripreso tante mappe di altri giochi. Dove l'hai visto il team? È andato... A parte che sta ripassando già il bro. Prendo placchetta. Io sono già messo decente di armi. Finché ho visto un tipo. Arriva, arriva. L'ho hittato, ma niente. Eh, no, no, no. Non voglio subito fai tarro, perché non... Allora, il revolver, questo qui, è devastante, Tano. Che è one shot. Dove... Where are you, where? Accanto a te. Ma dove stanno i tipi? No, stanno sotto in basso. Sento tanti passi. No, mi ha fatto, Tano. È qui, 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 qui. Fattilo, fattilo. Bravo. No, non è a terra, a terra, a terra. Sì, sì. Ok. Curami, curami, curami. Dietro! Sdrumalo! Aspetta, i colpi. È lì, Larry, ti puscia, ti puscia. No! Però non c'aveva vita. Non c'aveva vita. Possiamo responare, Tano. Possiamo responare. Non è un problema. Ma aspetta, ma è morto anche lui. Lo vedo morto davanti a me. Sì, sì. Siete killati a vicenda, tipo. Dai. Però non ti ho dato la kill, giusto? Eh, sì, ce l'ho, in verità. Tano, ci sono dei tipi da sotto. Io andrei qui, casomai. Qui nel chill. C'è anche la paga punch. Aspetta, ma tu non sei lui. Oh mio Dio. Tano? No, mi sto sparando. Dominkie Stas? Devo venire qua davanti. Tano, resisti, resisti. Aspetta, monta l'8k. No, mi fa male, mi fa male. Dove sta? Me lo pinghi? Lo vedo? Ce l'ho qua davanti. Bam! Ok, però sono a terra. Cazzo. Aspetta, arrivo, arrivo, arrivo. Era da solo? Sì, è morto subito. Resisti? C'è un altro accanto. Non è... Eh, niente. Non era con lui, ma è un altro proprio. Un altro team. No, era... Tano, mi ha distrutto. Mi ha disintegrato. Sì, ha fatto male, suppongo. Sì, sì, sì. Dai, prossima, prossima. Ci sono portati a casa quanto? Tre kill? Sì. Pochino, pochino. Possiamo fare di meglio. Ma come prima ci sta. Tano, si punta alla vittoria. Ovviamente, ovviamente. Dobbiamo... Almeno una va vinta, per forza. Sì, 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 sì. No, no, è bellissimo il gioco. È troppo bello, raga. A me piace proprio lo stile. Il fatto che comunque di base non ha tutte quelle menate del... Tutto lo spray troppo rinculo, quello, l'altro. Poi, i nemici non si mimetizzano più di tanto. Cioè, è bellissima sta cosa, proprio. Infatti qua vince proprio il primo che c'è i riflessi, il primo che vede il nemico, in quel modo. Mi piace. Dai, dai, cerchiamo la prossima. Se la trova. Tanto ora, Tano, il tempo che ci riscaldiamo. Eh, bisogna vedere quanto ci mettiamo, eh. Spero non quattro ore. No, no, Tano. Ma tu vuoi staccare le due di notte? No, io stacco un po' prima, ovviamente. Un po' prima, intendo, al 1.59? No, no, un po' prima, un po' prima. L'1.30? Io probabilmente mi faccio fino a mezzanotte. No. Eh, sì. Vabbè, che comunque, oh, non so se vuoi staccare prima o notte, ma... Oh, sono comunque più di un'ora. Ti ha mai stonpato. Oh. Oh, no. Io devo riprenderci già, io ho l'abitudine qua con il cerco. Mi chiamo me li misso, faccio cacare. Dai. Dai. Su, Luca. Dai. È troppo lento con questo cecchino, veramente. Sì, cecchini sono stralenti. Poi un colpo ognuno, cioè... Sì. Ah! Pam! Anche l'ho hittato. Ma sei contro di me? Può essere, Dano. Dai, ma ha fatto l'altro. Oh, grazie, io ribitterelli. Non mi sembra Minecraft, infatti non è Minecraft. È meglio. Da oggi sono un player di Mini Royale. C'è uno stream di Mini Royale, raga. Ti immagini. Per te ne vengono in vacanza perché il gioco è offline. Minchia. Oddio. Si può fare? No! Visto che hai detto che è meglio di... Mi scrivo... No, 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 Virgi. Scherzavo, scherzavo, Virgi. No, 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 no. Che già sto facendo pulizia. Contatti. Oh! Stano. Idio, io caldissimo. Wow, dipende tutto da... Da se riusciamo ad intanto lootare. Perché ogni tanto c'è proprio difficoltà nel loot. Minchia, Tano, siamo in 28. 28. Tantini, tantini. Tano, allora, io dropperei subito per andare qua sotto, lo sai? Se vuoi andiamo subito. Vai, 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 perché secondo me... Porca, troia, Tano. C'è il mondo intero, eh. Vado più lontano possibile, ma qua veramente c'è il casino, secondo me. Io me l'ho bloccato sulla foglia. Tano, io vado verso il rezzetto là sotto, eh. Potrei avere un tipo che mi spara subito. No, io ne sono sicuro che ce l'ho. Non mi ha sparato, ma... Ma c'è... Ma qua non c'è nulla. Infatti, Tano, io andrei nell'altra stanza, già. Andiamo, 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 andiamo via. Via, 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 via. Oh, bello questo. Vado a prendere almeno un'arma. Qua, Tano, c'è un'arma. Oh, c'è una cappa. E l'ho presa... No! Eh? Mi ho buttato fuori. Pure a me. Ma perché? Hanno spento il server, forse. No! La tua connessione è stata persa. Dove è finita la mia connessione? Let's go! La prossima! Va bene. E che palle. Ragazzi, allora, ricordatevi che, appunto, è un alfa test. Quindi, praticamente... Allora, da come ho capito, tempo ancora... Un mesetto e mezzo esce poi la beta. E poi il gioco ufficiale esce nel 2024, ad aprile. Però, cioè, a me piace. Perché oggi non sto porcendo a farvi vedere una partita di decente, ecco? Vabbè, ne abbiamo fatta una, per ora. Sì, sì, sì. No, vabbè, siamo già ritornati in partita, vai. Ce l'hanno fatto un controllo hack perché siamo troppo bravi. Ma noi abbiamo la beta. La beta... Te la dovevano fornire per l'ora, una certa. Ma è prima persona? Sì! Ma vedi, fa le ricerche a caso. Vabbè, te non vogliamo fare prima persona, ormai? Vabbè, ci siamo. Vabbè, ci siamo, vai. Proprio per non uscire. Si starta subito. Noi. A me piace di più terza persona, esser sincero, eh. Anche a me vedo meglio il nemico, esco sparando, easy kill. Sì, 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 sì. Ma gli altri nabetti non lo sanno fare. Allora, Tano, che vogliamo fare? Fa un giro un pochettino così, eh. Io ti seguo sempre. Io dropperei gli instant qua. Lì. A robot. Va bene. Vai. Tano, chi non risica non rosica. qualcuno amata da gente. Io sono abbastanza basso, quindi vedo dietro il robot, c'è una cosa. Questo non sei te. Non ci sono armi, bro. È il punto peggiore del mondo. È una persona, ma accanto a me. No, no. È vuoto! Ma non ci sono armi... No, dai, è impossibile che... Quello l'ha presa. Ok, ho trovato delle robe. Dai, io ho preso... Ho fatto male. Oh, una placchina in oro. Sento passi. Si è salito tu. Eccolo uno. Oh! Tanno sopra la casetta verde, eh. Sì. Aspetta. L'ho laserato. Oh! Non ci credo. Cioè, mi è stompato. Nulla. Mi è stompato. Pure te, eh. Sì, no, ma era l'altro. Era un team. L'avevo laserato, ma avevo un'arma che faceva 13 a colpo, bro. Sì, ma anch'io ho fatto molto. Dove vogliamo andare? Vai, scegli tu, scegli tu. Io andrei qua. Vai, andiamo. Sperando non ci sia gente. A me piace troppo la mappa, rega. Veramente. Sì, è che proprio a me la prima persona non fa impazzire. Cioè, è troppo confusionale per me la prima persona in un gioco simile. Sento sparire qua sotto? Sì. Un attimo che metto la placca io. Sì. Anch'io metto la placca, ma c'ho 25 colpi. Vuoi provare a fare qualcosa? Eh, c'ho 25 colpi, Dano. Ho visto uno sparo o da là, eh? Quindi se no, mi sono abbastanza accanto che sparo. Io entrarei clean a par, eh? Attento che sono già qui loro, eh. No? Brutti. Dall'altra parte. Sì, sì, guarda, guarda. Visto qua su? Uno si è buttato? Fino a di colpi qua, se vuoi. Ok, c'ho colpi. Non arrivo. Buonasera, altro. Fatto, fatto. Bella. C'è l'altro, c'è il compagno lì. Fatti. Sto caricando. Bella. Dai. Metto un medico qui. Non so se ti serve. Arrivo, arrivo, arrivo. C'è roba viola qui, eh? Però quello... No, nulla. Non ho placca. Non ci c'ho placca? Ok. Allora, ci metto qui l'otto per... E qui però è il red dot. Mi spara dalla casa, sempre. Quella lì? Sì. Uno si è appena buttato, non so se hai visto. No. Non li vedo. Bro, mi sta continuamente sparando da là. Eccolo! È lì! Sì. Hittato? Vai, fatto, fatto. Ah, malefatto. Ma come fai a fare... Quelli sono proprio i più stillati del mondo. Su. Io non c'ho parole. Due per... Ci piace. Ci piace. Tanno, siamo senza placca, però. Già. Questa cosa non mi piace. Con me, di kit. Oh! Mi spedava davanti, però, mi ha shottato proprio. C'avevo 100 di vita, ma... Lo vedo. Vai, l'ho stompato. No! Ho cred... Non ci credo. Ho beccato anche il nemico. E non ce l'ho fatta, Tano. Non era sempre del suo team? No, era del suo team. Lo sta pure restando. Io ho fatto 56 col cecchino. 56. E a me con un colpo mi ha buttato a terra e non ho potuto fare nulla. Non ti posso neanche aspettare, Tano. Eh, che cavolo. Vabbè, durerò poco, tranquillo. Vai, vai, vai. Vai. Guarda, guarda qua, si stronzi. Ah, peccato. Quante kill devo fare per farti rinascere? Eh, 3 kill, 3 kill. Madonna. Perché praticamente, ragazzi, questo gioco ha pure una particolarità, che se tu fai 3 kill, ti dà un punto respawn e quindi tu puoi respawnare. Ed è bellissimo come cosa. Quindi se Tano fa 3 kill, io posso respawnare. Madonna farà 3 kill? No. 3 kill di cecchino, io? Mmm. Che pale, non posso neanche aspettarti. Vabbè, dai, la finisco veloce, allora. Push addosso a qualcuno. Io ci credo, Tano. Oh, mi sparano. Sì, sì. Eh, che dire? Anche ci ho creduto. Che dire, che dire, Tano, che dire? Beh, ci ho creduto. Ah, andiamo, andiamo. Non è abbastanza, non è abbastanza. Tanto mi dobbiamo giocare a più calmi. No, allora, intanto, hai tolto la prima persona? Eh, no. Toglila, toglila, casomai. Ecco, perché non ci sono abituato. Ma perché non l'ho mai levata. Bro. Ci ha buttato una partita a caso. Eh. No, prima persona non è pronta. Soltanto duo terza persona. Solo duo terza persona. Perfetto. Ma come prima, tra l'altro, eh. Dai, 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 dai. Buonanotte per chi va. Sì, è molto carino, Master. Ma il fatto che ancora non l'avete visto poco, ecco. Cioè, metà gioco avete visto. Perché non è che c'è molto alla fine, eh. Però abbiamo ancora giocato relativamente poco. Vediamo se riusci a fare una bella partita. Droppare pure una vittoria. E che a Staglio ci sono anche tanti team, se hai visto. Sì. Failed. Perché secondo me stanno giocando tutti quanti all'ultimo. E potenzialmente hanno chiuso più lobby. In modo da fare lobby più corpose. Capito? Quindi potenzialmente aspetti un attimo di più. Però fai sempre la lobby da tanti. Io ci credo. È il giochino. Voglio le skin. Però il concetto ma soprattutto lo stile ci sono... No, è bellissimo Enrico, veramente. Pure a me piace tanto. Proprio lo stile, tutto quanto, eccetera. Poi è semplice come gioco, ecco. Non è in chissà che sbatta. Poi la grafica pulita. Senza effetti del cavolo. Ok, ormai tipo entri sui nuovi code. C'è la nebbia a due metri. Non vedi niente. Ma quello lo odio, madonna. Qua è bello. È visuale ampia. È bellissimo. Ok, ci siamo. E proprio quella è la cosa bella. Dai, 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 dai. Dai, dai, dai. Buon giù. Vabbè, dai. Manca a far così. Si inizia. Se una persona non ti risponde proprio o se ti risponde solo con un'occhio. Dipende dalla domanda. Pou. Dipende dalla domanda. Pou. Grpou. Ok. Tano, siamo in 30? No, Tano. Cosa? Tano, dobbiamo giocarla non safe. Di più. Allora. Io quasi direi andiamo in fondo, allora. Sì. Tipo, quando siamo al coso di CS, ci buttiamo per andare qua. Qua. Vai, mi piace. E poi andiamo dentro la grottina, casomai. La giochiamo safe, questa. Che bello, guarda. Mamma, io già, ragazzi, ho spottato almeno quattro giocattoli che avevo. Tra cui una delle micromachine, che era tipo il garage delle micromachine, quello che c'ha la strada a chiocciola esternamente. Proprio giochi anni 2000. Bellissimo. Pronto? Dritto. Dritto. Noto, difficoltà ad aprire le paracadute appena si scende. Sì, sì, sì. Pare che non te l'apre subito. In più quella lì, ragazzi, quella mappa lì, è shipment di COD. Oh, minchia, c'è un oro. Beh, ma dai già così. E fai me ne privo. Allora, questi qua che stiamo raccogliendo sono praticamente le monete del gioco che noi possiamo utilizzarle poi per fare i power-up. E Tano, ne ho già trovato un botto. Arrivo. Ok, qua trovo anche il car. No. Allora, se vuoi andiamo già nel pagapancino. C'è, ne ho 10. 12, a voglia. Sta qua dentro, mi sa, sì. Allora, praticamente, questo qui è il pack-a-punch di COD, sempre. Tu metti dentro l'arma, consumi questi soldi, queste medagliette, e ti vado ad aumentare, diciamo, il colore dell'arma. Fino al massimo. Il massimo dovrebbe essere rossa per la mythical, ma la trovi in gioco. Mentre così il massimo che tu puoi avere da questo è il giallo. Tra l'altro ho mai vista quella lì. Non l'abbiamo giocato tantissimo, ma l'ho mai vista. Allora, guarda, io sono più confident con la K, sinceramente. Vediamo se riesco a fare il power-up. Ma sparano? Sparano, eh? No, però è vicino a me. Ok, aspetta che... Sembra... Sembra tipo lì, per dire. Ok. Li vedo abbastanza... Incazzati. Tanni, ci sono, se vuoi. Perché non sparano a noi. Vuoi un M4 d'oro? O già c'è tutto? Eh, ho una cazza. Ah no, ma cazzo, ma non è il car quest, regà, è l'M1. Porca cazzo, ho sbagliato l'arma. Oh! Però sono morti. Sento un botto vicini. Big? Atterra uno lì. Ok. Prova morto-morto. Stompato. Sì. Dove sei tu? Eh... Vicino a te. Ci facciamo, andiamo? Non direi. Di più, a chi minchia sparava il tipo? Un attimo e guarda dov'è la safe. Urca. Ok. Dall'altra parte ma ci saria, però bisogna andare ora. Oh! Era per noi? Spero di no. Ah, se trovi un car, dimmelo, per favore. Ah, secondo me... Però io non so cosa sia il car. Cioè, non so come sia fatto. Cioè, c'è un giochino, eccolo qua. Eccolo qua, è questo qua, sì. No, questo qui, sì, sì, è il car. C'è il paga-punch qua vicino? Sì. Me la rischio, dai. No, ma ha dato... Mi ha bugato. Mi hanno sparato? Oggi sono i colpi, intanto, a caso. Non si sa dove arrivino. Secondo me sì. Che può anche essere, eh. Perché ti ricordi, prima che ti dicevo, uscivano da lì i colpi. Io li ho visti, ma non c'erano mica tipi. Per me i tanti colpi si buggano. Oppure attraversano le pareti, tipo 2000 pareti, boh. Eh, sì, potenzialmente li attraversano le pareti, ma... Soltanto gra... Come si chiama? Gli tulivi e basta. C'è la safe. Davanti. Qua. Visto? Un altro c'è anche dietro, eh. Fatto. Sto attarcando. No, ma come ha sparato a me? Bro, io non ci credo. Sono a terra. Aspetta. Eh, sono morto ormai. Eh, torno ad andare avanti io. Bro, io ero dietro tutto. Non poteva sparare a me. Ah. Devo correre. Devo fucking correre. Ok. C'è un tipo davanti. Ho messo i zizzani in giro. Sto a morire. Mi curo. Non vedo male per me. Ok, qui sono safe. Tano, c'è un problema. Fatti, fatti, fatti. Stompati, Tano. Come lo uso il medikit? Io ne ho uno sopra, bro. Eh, Tano, io sono un attimo... No, due, due team, due team ci avevo. Cavolo. Infatti hanno fatto me e l'altro. Ci ho avuto una sfiga inimmaginabile. Tu perché sei uscito da lì? Perché mi sono preso la roba. C'è un bot di loot da me comunque. Oh, e tu? Sì, sì. Sì, sì, ok. Abbiamo 40 secondi, vedi. Qua c'è un bel poco di roba. Allora, io lì mi sa che ho visto... Eh, quello è un car. Però è verde, mi sa. Sì, no, 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 non è vale la pena. Qua non c'è tanta roba, c'è pure un medikit. Sì, sì, ma ho preso... Ho preso della robettina. Ok. Che facciamo? Che tra poco chi della safe? Tre secondi, eh? Aspetta, al medikit dov'è? Va bene. Via, 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 via. Tre drop uno io. Tieni. Thanks. Oh! Davanti. Eh, ma ci abbiamo la safe contro. Sì, sì, andiamo, andiamo. Visto? È lì? Stiamo... Facciamo, andiamo sotto il coso? Sì, 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 sì. Andiamo dalla polizia. Nel buco? C'è il buco? Ah, buono. Ah, no, però qua forse è peggio, eh. Eh, sento un poco di... Di colpi. Andiamo dalla polizia? Quindi? Ce l'aviamo un punto. Per aspettare. Camperemoci nella polizia. Qua, qua, qua. Tano. Me li devi pingare. Qua. Visto? Dietro il furgoncino, sembra. Sì? L'ho raggiro, l'ho raggiro. L'ho irritato molto, eh, però penso abbia... Si sia fullato, di nuovo. A te, buttato giù. Ucciso. No! Mi ha spi... Da, da, di qua, da, di qua. Eh, niente. Aspetta, Dano. È un altro team ancora, quello. Ma tu non eri accanto a me? Sì. Ma io ho fatto il giro. Aspetta. Fatto. Sì, tu. Ok. Buono, buono, buono. Oh, un altro. No, Dano. Non ho armi. È lì, lì. No, peccato. Peccato. Mancavano tre team, Dano. No! Però, eh, ci hanno preso tutti contro, tutti. Il mondo intero. Siamo finiti in mezzo allo scontro. Peccato. È, tutti i team differenti. Che palla. Dai, dai, dai. Rifacciamo, rifacciamo. Ciao, te ve l'ho detto. Sto gioco è bellissimo. Cioè, sto gioco mi piace un casino. Dobbiamo, allora, sì, il problema è stato quello là che, cioè, ci hanno chiuso. Prima, erano tre team. No, erano tre team. Quello è il problema. Siamo finiti in mezzo a tre team. Uno dietro e due davanti. Dopo essere appena usciti da uno scontro con un altro team, tra l'altro. Sì, sì, sì. Durata molto. Sì, inizia. No, siamo a 22. Siamo già un po' di meno. Eh, vedi, questa qui magari in finale si arriva facilmente. Siamo magari pochi. Sì. Allora, il giro mi piace anche. Secondo me, l'ideale sarebbe o il biliardino, tipo qua sotto. Oppure anche qui. Scegli. È uguale, è uguale, è uguale, è uguale. Allora, faccio una cosa. Casso a me, vediamo un attimo qui dove ho segnato quanti siamo. Perché già siamo in 12. Se siamo ancora in 6, in 7, scendiamo ancora dopo. Eh, siamo ancora a 8, vedo. E qua siamo a 8, sì. Ah, sì. Oh, poi, ragazzi, se notate qualche gioco della vostra infanzia me lo fate sapere. O qualche immagine, o qualche quadro. Se andiamo lì. Voi dire di andare lì, eh. Lì, eh, sì. Vamos. Oddio, provo a stare un attimo qui sulla mensola. Che c'è anche la zipline. Mi trovo già un car. Ah, no, è sempre l'M1. Tanno, mi raccomando, ho coperto. È copertissimo. Perché qua sotto c'è poco o niente. No. C'è gente? No, no, sono cascato di giù. Sì, poi c'è il biliardino, raga, cioè. Ieri sera abbiamo praticamente, noi abbiamo fatto una partita e l'abbiamo finita sotto il biliardino. Cioè, e poi è bello il fatto del gioco, perché tu devi dare la posizione e dici, oh, nel biliardino. Cioè, tipo ieri, oh, è sopra la giraffa, sopra la giraffa. Ops. Io quasi, quasi me ne vado comunque verso il campo militare, qui c'è poca roba. Sì, sì, andiamo, andiamo. Tanto la safe. A voglia, chiudi su di noi. Io un attimo qua. Ho trovato un free spin. Mi sparo il free spin. Tuku 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 tuku. Tano, Tano, mi ha droppato la mitica. La mitica? Ho l'M16 mitico. Col free spin. Mai visto. È esteticamente uguale. Sì, non cambia la sega. Si gode. Sì, con quella fai un botto di danni, eh. Mi servirebbe soltanto... Gente? Uno qua? Visto? Visto? Stompato? No. L'altro in fondo? Sono due team, due team, due team. Visto, visto anche l'altro? Sì, ma sono due team, c'è anche un altro, è un altro team proprio. Uno è bianchissimo. Tu pinga, pinga. Stava là dietro uno. Visto? Sono chiuso. Sono chiuso, Tano. Non l'ha rasurato un altro? No. Uno l'ha atterrato. Dai, continua, continua, continua. Non c'ho il rispondo. Adesso torno. Eh, ma io sono morto anch'io. Ma l'ha laserato anche a me. Cavolo. Minchia, mi sa che beccano l'M16 rosso. Eh, sì. Vogliono tornare lì a prendere il volo? Minchia, l'attento. Sei tu quello che sei sceso nell'M16? No. Ok. Un atterrato? Atterrato un altro. Ce n'è ancora un altro, M, sotto di te. Attento, eh. Cento per cento. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Che cazzo tra l'altro? Oh, oh. 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 Come si mutano? Francesi. Ma ci hanno insultato. Guarda, c'è il tuo coso. Sì, sì, l'ho preso, l'ho preso. Però ci hanno insultato questi. Non lo so, Tano. What the fuck? Ma ci hanno insultato in un gioco a cubetti, qua. Quei giocattoli. Eh, vista la comune di Minecraft Italia, non cambia molto. Potrebbe tornare, Tano. Potrebbero tornare, eh. C'è la roba ora sopra. Sì, ma... Boh. Me ne vado un pochettino qua nell'angolino, mi devo... Io avrei bisogno di colpi del car, sinceramente. Ah, che lo trovo di 240, la faccia. Eh, la cappa viola ti serve, no? No, no, no. Che buono, buono, buono. Visto uno? Dove? Eh, dentro shipment. Aspetta, da qua lo vedo, eh. C'è la safe. No, si fa stato. Visto? Si vede la testa un pochettino, ma... Sarebbe la granata, eh. Vitato, un botto? Mi sa che l'ho hittato. Oh, c'è l'altro! Visto? Laserato, ucciso. È qui, 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 qui. Fatto, fatto! Bella, bella, bella. Ci siamo fatti un altro team, eh? Sì. Mamma mia, Tano. Mi piastro. Piastro di tutto. Io l'ho con due per. Lo prendi? Ok. Io nel due devo ricordarmi che è un pompa. Allora. Eh, ma cambiatelo, no? No, no. Devo tanto ricordarmelo. Vabbè, ma lì c'hai un'altra kappa. C'è un M16. Qua c'è un cecchino. Vettivi davanti. Tano. Dove, dove? Pinga, pinga. Ah, ok. L'ha serato uno. Uno è all'aereo, uno è in fondo, eh. Poi addirittura l'aereo. No! Fatto! Ma bro, a terra è incolpibile. Ce n'è uno laggiù in fondo. Sono a terra io. Visto? Aspetta, Tano. Madonna, la gente è a terra. Cos'è questa roba? Ah, una seconda. Tranquillo. Sono un ninja. Appena mi scuri tutto il kit per terra. Mi sei tirato una granata. Sì, spara da qua, eh. Da destra. Curati. Un altro è appena arrivato, eh. Con il paracadute. Oh! No, 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 no. Sta qui. Ricarica. No! Mi ha preso! Oddio! E c'avevi il punto... A favore. Dove sei te, però? Qua, qua, qua. Accanto a te. Dietro di te. Ah. Lancia una smoke. Come ho fatto io. Non ce l'ho, ma... Guarda. Ok, fai così. Non posso. Arriva, arriva. Allì, lì, lì, lì. Ho visto. Io non posso neanche lanciare. Fottilo, fottilo. Bravo, bravo. Uno ucciso? Io non so se riesci a curarmi o meno, eh. No, bro. Hai un'altra vita a te? Sì o no? Sì, due respawn abbiamo. Cosa da senza armi? Ti conviene rinascere. Sì, sì, sì. Sì, sì, fuori. E ce l'hai davanti, l'hai visto, vero? Sì. Ucciso. Bene, 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 bene. Arrivo. No, c'è un altro. Non ho armi. Sono due team. No, porca miseria. Ma guardate. Nulla. Sono morto. Niente, niente. Un team pieno c'era. Non ho potuto schivarlo. Ma tu puoi respawnare, giusto? Sì, sì, sono già qua. Sono sopra di te io. Ok. Il problema è che sono atterrato qua e c'ho un cecchino. Qui sono delle armi, eh, sotto di me. Ok, no, l'ho appena trovate. Tu se vedi il nemico pinga? Visto, visto, visto. Dove erano prima i tipi? Tu non c'è sempre un pinghino, eh. Perché? Il pinghino è qua. Pinghino? Là sopra? Sì. Dove erano prima? Minchia. Tu sei sotto di me, praticamente. Sì. Ok, sì. Sì, e da dove mi hanno ucciso, tra l'altro? Da lì. Il team pieno, l'ho anche un po' laserati. Ora si saranno sicuramente curati, però... Da lì. Sento passi. Tano, tu sei sopra. Qualcuno sembra qua. Però davanti... Ne hai uno qua, eh. Qua sotto davanti, proprio. L'hanno fatto? Ok, li ho visti gli altri. Stanno qua, in questo punto. C'è più respawn. Nulla, mi devo buttare io. Ne ho uno qua. In mezzo a questi personi qui, eh. Due, due sono. Visti? Una a terra. Stompato quella a terra, non rispona più. Mi spara, cazzo. Dove, dove, dove? Sempre lì, accanto all'altro. Diero la bambola? Sì. È andato sulla destra, mi sembra. Siamo chiusi, eh. L'ho aiutato. Fatto. Bella. Bromi. Il mediquitto qua. Ce l'abbiamo sopra. Sì, lo so, lo so, lo so. Quindi, se ci mettiamo qua sotto, forse non ci vedono. Credo. Non mi piace. Qua sotto non ci dovrebbero vedere. Poi, che siamo un punto del cavolo, totalmente d'accordo. Vado di 4 per col cecchino per ora. 3 team. Cerchiamo di fare un team versus team. Io considero non ho placche, quindi so proprio... Neanche io. Sì, però tu almeno le scudo. Io nemmeno. Ah. Cominciamo ad andare. Aspetta, Dano. Spina, spina. Che vuol dire? Sei monetina, eccetera. Spina, ti droppa la roba. Non ne ho. Non posso. Che sto spinando io, allora. Bro, bisogna salire noi, eh. Cazzo. Sei pronto? Sono andato già. Tocca di nuovo. Sì. No. Andiamo piano. Sono cascato. Mi sa che sono morto, Dano, io. Sono morto con un pisello. No, mi ha ucciso questo qua. C'è la gente sopra, ovviamente. Sta bevendo, si sta curando. Mi uccide. Fatto! Per poco. Hai tutto necessario lì, eh. Sono uno V2. Non so se... Sì. Sì, sì, sì. Eh, niente, Tano. Seconda posizione. Peccato. Ma guarda... Questa era bella. Allora, ho trollato io... Quante chi l'ha? E praticamente 75 di vita, solo con la barriera. Peccato. E siamo separati. A quest'ora, minchia, li stompavamo. Era vinta. No, uomo. Non è che ci siamo separati, sì. Perché sei caduto. Sì. Si faceva easy, perché quello lì era da solo, hai visto? Lei è ucciso e è morto. Sì, sì, sì. Lì in due lo tripellavamo e eravamo due V2. Messi male noi, comunque. Però comunque un due V2. Eh, lo so, lo so. Va, 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 vai. Ma dai, dieci. Ma poi io dico, ma tutte... Cioè, due miliardi di persone, nemmeno troppe, e dieci kill tutti noi ci siamo fatti, praticamente. Sì. Il terzo della lobby era nostro, eh. Mmh. Eh, peccato che... Lì proprio... Ho usato la grappling e mi ha buttato giù. Ma l'hai gacciata male o perché non ti ha saltato dopo? Eh, non mi ha saltato dopo, è come se avessi rimbalzato. Cioè, l'ho tirata, ho sbattuto contro la parete, ho fatto boink e mi ha buttato giù. E ho preso danno da caduta, danno da barriera e tutto quanto. Come sia questo gioco che si chiama Mini Royale, però tra tre ore chiude per due settimane. Oddio, ho fatto un emote, che ho fatto? Ma poi dice, guarda roba che c'è qualcosa di nuovo. Ci sono le emote, eh. Sì, ma dice, c'è qualcosa di nuovo, ma non è vero. Ah, lo so, anche a me. Sarà uno dei tanti bug. Allora, da come so, ragazzi, quando uscirà sarà per tutte le console e anche PC. Ora, come ora, il playtest è solo PC. Non è di manganello colorato. No. Sì, ma non ce l'abbiamo. E comunque è un macete. Ah no, c'è anche il manganello. Ah, è vero, sì. Manganello e macete. Ah, ti vuoi mettere anche il mantellino. Della Optifine? Sì. Ah, ma guarda che già hanno fatto diverse MOT. Ci sono. Ci sono, cioè non le puoi usare. Sì, non le puoi usare. Ma perché mi sembrano quelle di Fortnite? Beh, lo stai veramente chiedendo? Scusami. Ci siamo, Tano. È quel momento, il momento della vittoria. Ci stiamo avvicinando sempre di più? Sì. Per me... Vabbè, comunque, sì, ci siamo già belli caldi, poi... Ma guarda, appunto, se non c'era quel mio inghippino... Ehi, sì. No, si faceva quello. Poi si faceva la facilità. Ah. Madonna, che schifo. Ho finito la tastiera? Cioè, il mouse e tutto? Vabbò. Si inizia. Poi, Tano, siamo in 30. La vedo tosta. 30. Dipende il giro che fa. Fa un giro un po' del cavolo. In verità nemmeno troppo del cavolo. È la parte finale che... È molto ripetuta. Ma se tutti si buttano prima, è ok. Allora, il percorso in realtà è quello di prima, anche, eh? È molto simile, sì. Cosa vogliamo fare? Aspettiamo e droppiamo a random, a sto punto e pinghiamo mentre ci droppiamo. Cioè, io aspetto... Perché allora o droppiamo subito... Dipende quando si vuoi droppare. Eh, boh, dipende. Per me possiamo anche droppare subito, tanto alla fine... Non penso cambi molto, ora come ora. Io ho... Se ti fosse per me, io andrei nel coso militare ogni volta. Lì è stra pieno di loot, che cavolo. Sì. Cioè, veramente... Vai in alcuni punti, ti aspetti, ci sei al mondo... Oddio, potremmo andare anche verso il centro. C'è la mappa per di lati, per realtà. Ci sono già andati all'inizio, secondo me. Siamo in sei. Ma aspettiamo. Io droppare... Non c'è più da aspettare. Eh sì, abbiamo droppato tutti. C'è un bro al tipo militare. Io vado direttamente qua, allora. Mi sparano. Questo qui tiene la mamma puttana. Sì, anche quella è stata per me. Sento troppi passi. Sì. Confermo. Oh, mi spara. Ah, figlie buttana! Ma non gli ho fatto danno. Mi ha laserato. Madonna, 10 di danno fa. Ce l'hai dietro, eh? Verso di me. Ok. No vaffanculo! C'è veramente pregato così? Tano, io non sono una famiglia di loro. È da me, da me è qua. No, ho finito i colpi! Eh, Tano... Non lo so, io avevo un'arma viola e non faceva nulla di danno. Avevo quella con il caricatore laterale presente. Fa proprio schifo quella. Dovevo pigliarmi l'altra arma. Come sono messi... Oddio, qua sotto... Guarda, vado qua sopra io. Ok, io vado nel lavello. No, uh, c'è un team lì. Altro che... Io qua c'ho anche il pagapance, ma... C'è un problema, ho trovato due pompa. Oh, c'è un buco. Ho trovato due della vernice. La bevo? Mmm. No, non è la marca che mi piace a me. Scusami, cos'è la bandierina che vedo? Una bandierina io ho nella... Siamo belli separati, Tano, eh. Lo so, ma almeno ho trovato delle cose. Io non ho trovato nulla. Sto senza nafta e non so dove andò. Ok, un paio di armi trovate. Che ti vedo. E c'è morto qualcuno. Oh, cazzo, l'ho visto. Per me? Una terra? Fatti. Bella. Abbiamo tutti i lutti del mondo. Ho visto un colpo arrivare così? Sì, sì, ma confermo che attraverso sono le pareti, eh. Ma sono l'M21? Car? Eccolo. Oh, car blu. Buono. Ah, no, dobbiamo pagapanciare qua. Allora. Mettiamo qua un bel red dot. Qua un 4x. Pagapanciamo? Arrivavano da laggiù i tipi. Boh, non ci ho fatto caso. No, perché sennò avevo un altro team qua. Va bene, andiamo, andiamo. Dove va andato? Eh, verso il pagapanci. Eh, ma non so dove stia. Eh, andate a noi. Le prove ci pinghino due pure. Ah, era il mio. Io pinghavo sopra. Buona la corazza. Buono il compensatore. Ma no. Tano, non ci andiamo più dal pagapanci, mi sa. Non ci piace, non ci piace. No, qualcosa mi dice che non ci andremo. Buono l'8x. Qualcosa mi dice che andremo proprio qua verso il centro. E chi si è visto, si è visto. Mi ho 14, spinno Tano. Ora, no, non ora. Pazzo. In 6 fallo. Oh, arma d'oro. Buono. Tano. Dove entrare dentro il buco, mi sa. Credo. Sì. Ah! Ok. Quanto minchia chiude sta safe. Vi sono davanti a noi che deployava? Lì? Lì lo vedo? È sceso giù? C'è un tipo davanti lì anche? Davanti ancora? È bianco nella safe? Sono due, sono due. È bianco, sì, di nuovo. Mi spara il bastardo. Uno è ancora quella perazza. Uno davanti qua? Visto? Dittato? Dietro? Come dietro? Eh dai, morto? Ok, bella. Mi devo curare? Aspetta Tano, eh. Vai. Mi bendo. Mi bendo. Vado di bando. Sono sopra di noi? Sì. Eh, io quasi quasi uscire per pigliarmi le corazze del Brody. Non male. Presta, presto. Ok. Eh, ho una smoke e una granata anche. Ma vedi che colpi... Ma guarda, ma... Sono fatti a culo. Che vogliamo fare? Ti posso dire... Ah, ho 23 cose. Non lo puoi andare a fightare. Allora. Aspettami, mi faccio... Presto, una cosa che mi abbassa il danno... Spino. Vuoi delle monete in età, no? No. Mi ha droppato questa qui d'ora, la vuoi tu? No, no, fa cacare quella. Vedi, fanno tutto loro, si ammazzano. Voi, ho shoppato. Sono uno shoppone. Eh, ma Tano, qua abbiamo poi la safe ender coolen. Ah no, chiude così precisa. Infatti rimane proprio qua. Abbiamo meno nemici se stiamo qui in questo punto. Quindi che ce lo fa fare? Vogliamo trasferire la vittoria? Sì. Eh, ma se ne andranno anche? Certo. E noi li prenderemo da dietro. Li faremo la rinza runza. Classico. Esatto. Una bella rinza runza. Poi band, le armor, medikit, military potion. Però cosa bella è che non abbiamo neanche configurato i tasti, niente. Noi entriamo in partita e spariamo e basta. No, poi abbiamo tasti pure di code. Io ci sono stra scomodo con questi. Mi sa che dobbiamo un po' uscire però, Tano, lo sai? Sarà la safe, fa dirmelo quando si avvicinerà a me. Però c'è da dire, sì, che se si chiude così... Sì, sì. Ma proprio leggermente. Qua, qua, qua va bene. Fai attenzione sopra. Sopra in teoria non ci vedono, secondo me. Ma poi nessuno si guarda proprio così sotto, eh. Basta non fare troppo rumore, eh. Oppure stai cucciando? No, io sto cercando di vedere... Io comunque te lo dico, chi spara così da lontano è incolpibile. Quindi secondo me c'è da cominciare a usare la Z, eh. Ah, la Z. Ah, sì. Così. Sì. E io non riuscivo... Cioè era... Cioè, oddio, abbassi un po' la mira e poi lo colpisci. Ma è veramente difficile da colpire uno così. Undici player. E che non mi dispiacerebbe a metano salire sopra. Ah, ma se vuoi salire saliamo, eh. La proviamo? Va bene. Ecco. Ci hanno un botto spottato se... Bro, se ce n'è uno qua... Io sono straesposto e non posso farci nulla. Infatti sono dietro a quel cubetto. Eh, ma non c'è spazio per due. Tipi di ploya? L'ho visto? Visto? L'ho missato? No, uomo, pazzo. Attiri l'attenzione su di te. Ecco, l'ho visto, l'ho visto, uomo, sta qua. Sì, visto? Hittato? Minchia, fa 28 questa roba. Ma che... Ah, mi ha fatto ma... Ma uh, che dolore. No, non conveniva. Devo metterci un attimo l'otto per. O no? Bro, ci crepo ora. Di safe. Lo dico io. Oh, co... Abbiamo un'arma blu, Tano, è quello il problema. Cioè, non c'ho... Un buon cecchino. Siamo coperti qua, qua, qua. Mi sei piaciuto. Qua accanto, Tano! Sono andare da safe. Sono proprio dietro al muretto, eh? Uh-huh. Visto? Laserato, bella. Comunque ricordati che stava mirando a un altro. Eh, quelli che erano sopra. Siamo in safe, siamo in safe. Attento al castello, eh. Vorrei che uscire uno da lì. Io lo starmene qui. Eh, ho visto, visto qua. Accanto a me. Ho ucciso. Mi corazzo. Anch'io? C'è roba. Allora, Tano. Un attimo che mi rimetto la paraccia. Siamo 2v2. No, siamo 2v1v1. Appunto, lasciamoli scannare tra di loro. Non farti vedere. Stai più coperto possibile. Oh, madonna. Ma quello sopra è un tavolo gigante? Ma che cazzo ne so io? Dove... Che vogliamo fare? Perché tra poco poi siamo... Ah, no, forse il tetto. Siamo poi... Dovamo andare dalla parte opposta, ma secondo me è quasi ok. Comunque io seguo te, eh. Allora, a me preoccupa il tipo. Potrebbe essere sopra... Lì dove c'è la zipline. Andiamo. Sì, ho sentito rumori. Attento qua dentro. Sì, brutta sito. Di qua non siamo in safe. No, però possiamo aspettare fino all'ultimo. Siamo qua. Quindi buono. Mi guardo di qua? Se vedo... No, andate, bisogna andare di lì. Ok. Chiude. Ok, qua dove sono io... Ok, vengo da te però. Ma è possibile, bro? Stanno sopra la pianta. Allora, o mi mettere là dietro e io Tano. Sopra la pianta o sopra il tavolino che c'è ancora l'angolino, eh? Però, boh, come fa ad essere tre team? Ho lanciato una granata. Eccolo! Eccolo qua. Sono a terra. E anche lui. Troppo un altro. Posso atterrare. Sì! Let's go! Yes! GG a me. GG. Vazza, 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 vazza. Rizzerunze. Vai! Oh, io direbbi che con questa vittoria possiamo chiuderla qui. Io direi che la possiamo chiudere qui. Tano, ci becchiamo tra poco. Yes.